Operazione assurda che per risparmiare solo qualche migliaio di euro creerebbe disagio ai cittadini e agli stessi dipendenti comunali di via Geromini. Il segretario della Lega Nord, Pietro Burgazzi, attacca la giunta Galimberti e anche i sindacati resisi colpevoli ai suoi occhi di un silenzio assordante perché non sono stati informati preventivamente del trasloco e quindi subiscono in silenzio il disagio. E' solo l'ultima occasione di scontro sulla gestione del personale comunale che riavvicina le posizioni del Carroccio a Forza Italia. Giorgio Everetti infatti ha contestato l'eccessiva frammentazione degli uffici pubblici dislocati in punti diversi dalla città e difficilmente accessibili senza automobile, per non dire troppo trafficati e pericolosi. Bisogna infatti recarsi in via Persico e in via Giordano quando il centro storico permetterebbe ai cittadini di ritrovare le sedi pubbliche ravvicinate e raccolte in poche centinaia di metri. Critiche che colpiscono di nuovo la riorganizzazione della viabilità voluta dall'assessore Alessia Manfredini. In discussione ritorna la mancanza di parcheggi. Aumentare il personale in via Aselli complicherebbe quindi la vita ai cittadini. In via Geromini intanto da lunedì scorso si può telefonare soltanto fino alle 11.30. Un minuto dopo entra in funzione il risponditore automatico che avverte gli utenti che gli orari di apertura al pubblico sono cambiati. Dalla giunta è pervenuta una spiegazione. I cambiamenti sono stati necessari per dare un servizio qualitativamente più puntuale di informazione e consulenza anche telefonica e per mezzo della posta elettronica. I dipendenti così hanno più tempo per sbrigare le pratiche. Da parte loro i sindacati, punti sul vivo dalla Lega, hanno replicato con il coordinatore delle RSU del Comune, Giorgio Salami, che considera ironicamente fantastici i due nuovi paladini dei lavoratori, soprattutto dopo quanto dimostrato dal centrodestra nei cinque anni dell'amministrazione Perry, dalla quale però il centrosinistra eredita un problema dei più classici espinosi, la valutazione del personale dipendente. Infatti i criteri seguiti dai dirigenti nell'emettere un giudizio che poi si traduce in busta paga come premio di produttività non sono ancora stati concordati tra amministrazione e sindacati pur dopo anni di proteste. In compenso sono aumentate le posizioni organizzative, cioè i vice dirigenti di cui i sindacati avrebbero fatto volentieri a meno.